Come sicuramente sai, proteggere i nostri account di posta, Facebook e quant'altro è sempre più importante e molti gestori mettono a disposizione la doppia autenticazione. Vediamone una, che è quella di Google Authenticator. Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Torneremo a parlarne nuovamente, ma la sicurezza dei nostri account è fondamentale e questo è ben chiaro ai gestori dei nostri account stessi, Google ad esempio. Quasi tutti mettono a disposizione un sistema di doppia autenticazione, ovvero non basta più che noi diciamo loro il nostro nome account e la nostra password, ma si utilizza anche un altro sistema di autenticazione di modo che se qualcuno, chissà dove, riesce in qualche modo a inserire le nostre credenziali il nostro telefono o qualche altro dispositivo ci avvisi e ci chieda soprattutto una ulteriore autenticazione. Questo è il sistema a doppia autenticazione, che un po' mette in difficoltà gli utenti meno esperti perché è un passaggio in più che dobbiamo fare, ma ci garantisce una sicurezza maggiore. Vediamone allora uno di questi sistemi, quello proposto da Google, uno in realtà dei tanti proposti da Google che è Google Authenticator. In pratica cosa succede? Per proteggere il mio account Google posso installare nel mio telefono, nel mio smartphone, una applicazione Google Authenticator che mi fornisce un codice speciale al momento di entrare nell'account. Per cui nel caso in cui qualcuno, una volta scoperta la mia password, provi ad utilizzarla sul suo computer, sul mio telefono uscirà una richiesta di autenticazione. Senza questa autenticazione non sarà possibile entrare nel mio account e soprattutto a me suonerà un campanello d'allarme che mi suggerirà di cambiare la password dato che questa potrebbe essere violata. Vediamo allora come funziona. Per cui noi abbiamo a disposizione il nostro telefono e andiamo ad installare questa applicazione che si chiama Google Authenticator. Quindi vado a cercare il Play Store nel mio telefono, eccolo qua. Cerco nel campo la voce Authenticator, io l'ho già scritta poco fa ed eccolo qua, Google Authenticator che sul mio telefono è già installato per cui potrei cliccarci sopra e dire in questo caso installa. Io per velocizzare l'operazione l'ho già preparato e installato. Ora lo devo aprire. Bene, torno fuori quindi dal Play Store, vado sullo schermo principale del mio telefono e vado a cercare l'applicazione installata. Generalmente il mio telefono mette le nuove installazioni come ultima voce. Eccolo qua, Google Authenticator. Per poterlo utilizzare io dovrò sincronizzarlo al mio account Google. Lo apro intanto per vedere cosa succede ed eccolo qua che mi dice di iniziare. Dopo aver attivato la verifica in due passaggi per il tuo account Google o altri account, perché questo servizio non funziona solo con Google ma funziona anche con account di altri gestori, dovrai inserire la tua password e anche il codice generato da questa applicazione. Bene, premo inizia per vedere cosa succede. Eccolo qua. Aggiunta di un account. Puoi aggiungere un account selezionando una delle seguenti opzioni. Leggi codice a barre, inserisci codice fornito. Passo ora sul mio computer per andare a configurare la doppia autenticazione per l'account di mio interesse. Mi preoccupo innanzitutto di accedere a quell'account. In questo momento io non sono logato a nessun account, per cui digito accedi e vado a scrivere il nome dell'account in questione. Dico avanti. Poi digito la password corrispondente e dico nuovamente avanti. In questo modo ho avuto accesso all'account. Ecco, in futuro per accedere all'account da un computer diverso dal mio servirà anche l'autenticazione del mio telefono. Ora sono logato. Entro nelle opzioni di sicurezza del mio account premendo sull'immagine che è apparsa. spesso in questa posizione ci sono solo le iniziali del nome della persona. In questo caso io ho l'immagine perché in passato sono andato a personalizzarla. Vado su account Google e arrivo in questa schermata. Vado nelle opzioni di sicurezza per cui vado a premere su sicurezza e da questa schermata potrò gestire l'accesso a Google. Ed ecco la parte che mi interessa. accesso a Google, la password, la verifica in due passaggi che è già attiva sul mio account per questioni di sicurezza e oggi vedremo come aggiungere tra i metodi di verifica in due passaggi Google Authenticator. Per cui premo su questa voce confermo nuovamente la mia identità digitando la password ed ecco mi è arrivato in questa schermata. Intanto mi sta dicendo che la verifica in due passaggi è attiva già dal 26 ottobre del 2016 per cui è già da un po' di tempo che io utilizzo questa protezione. Oggi voglio aggiungere Google Authenticator lo utilizzavo già, l'ho tolto per poter farti vedere come metterlo. Vediamo che ci sono già altre opzioni di verifica quindi si può utilizzare il mio telefonino con un messaggio ricevi il messaggio di Google sui telefonini a cui è eseguito l'accesso oppure ricevi un messaggio di testo vocale a un numero di cellulare in questo caso il mio oppure ho dei codici di backup ma io in questo momento voglio configurare un secondo passaggio alternativo quindi se uno degli altri non sia disponibile in quel momento o non funzioni più non ho più modo di entrare nel mio account perché non riesco a completare la verifica in due passaggi per cui aggiungo questo Google Authenticator quindi vado su questa voce scelgo configura e ora mi viene chiesto che tipo di telefono hai Android dico avanti e mi dice bene scarica l'app Authenticator dal Play Store e all'interno dell'app seleziona Crea Account e noi siamo già in questa posizione ora torno a visualizzare il mio telefono eccolo qua per cui in definitiva io sono già nella schermata aggiunta di un account semplicemente perché ho aperto l'applicazione premo su Leggi codice a barre dato che quello che ho qui è un codice QR questa traduzione codice a barre intende comunque questo codice per cui premo quello e ora dovrò intanto consentire a Authenticator di usare la telecamera quindi a consento e ora dovrò semplicemente inquadrarlo col mio telefono per cui alzo il telefono che inquadrerà il codice a barre sullo schermo attendo che lo legga ecco il telefono ha dato una piccola vibrazione ed ecco che Google Authenticator inizia a funzionare generando un codice temporaneo questo simbolo che si rimpicciolisce a mano a mano decide per quanto tempo quel codice sarà valido ora sta per scadere ed ecco che il codice è scaduto ed è stato generato un altro e nuovamente scadrà a breve tempo per cui io vado a dire avanti a questa schermata perché devo completare l'operazione e devo andare a copiare il codice ora torniamo a visualizzare il telefono e copio il codice devo essere veloce vediamo se riesco a farlo contemporaneamente ok lo devo scrivere e basta ho battuto su verifica e ecco fatto d'ora in poi potrei utilizzare l'app Authenticator per accedere al tuo account Google fine per cui in definitiva io ho dovuto ricopiare quel codice visualizzato nel suo periodo di validità e ora quando vorrò accedere al mio account Google dovrò aprire questa applicazione per poter effettuare la verifica ora proviamo intanto esco da tutto ed eccomi pronto per iniziare quando voglio accedere al mio account Google premo su accedi inserisco l'account dico avanti digito la password dico avanti e ora mi viene chiesto di utilizzare la verifica in due passaggi in questo caso io ho più verifiche in due passaggi autorizzate come abbiamo visto prima e quindi potrei sbloccare il mio accesso in questo caso dicendo un semplice sì sul mio telefono ti mostro la schermata del mio telefono eccola qua e quindi mi dice hai tentato di accedere a Infomaggiolina mi mostra qual è il dispositivo che sta entrando e dove si trova per cui se sono io ovviamente dico di sì ma se questa schermata appare senza che io ne sappia niente non autorizzo e quindi anche se l'altra persona conosce la mia password non può accedere al mio account ma noi vogliamo utilizzare il Google Authenticator per cui dico prova un altro metodo eccolo qua ci sono varie opzioni che ho impostato scegliamo quella impostata oggi che è ricevi un codice di verifica dall'app Google Authenticator per cui premo in questa posizione e ora qui devo andare a scrivere il codice di Google Authenticator per cui dal mio telefono vado a cercare l'applicazione Authenticator eccola qua e devo nel tempo di validità riportare quel codice unicoco ecco ora me lo memorizzo e andiamo ok se io tengo attivo questo segno di spunta in futuro non verrà più richiesto su questo computer dico avanti prima che scada il tempo purtroppo il codice è errato per cui devo andare a riscriverlo infatti l'ho scritto male attendo che scada così scrivo quello nuovo non serve che te lo visualizzi nuovamente io lo controllo dal telefono così lo scrivo giusto questa volta ok e dico avanti perfetto ora ho potuto accedere al mio account ecco che è uscita la foto in questa posizione per cui posso utilizzare l'email e tutto quanto ma ho dovuto utilizzare la verifica in due passaggi su questo computer mio personale a casa mia non servirà più la verifica in due passaggi perché io ho acceso il segno di spunta quindi non dovrò fare tutto questo traffico ma tutto questo traffico invece dovrà farlo chi cerca di entrare nel mio account a mia insaputa per cui solo sul mio telefono verrà richiesta l'autorizzazione e questo mi dà una sicurezza maggiore sul fatto che il mio account non possa essere violato nonostante qualcuno riesca a scoprire la mia password quando guardo un video faccio sempre sapere alla persona che lo ha fatto se mi piace oppure no e se mi piacciono i suoi video mi iscrivo subito al canale a Grazie a tutti.